Se ti hanno sempre detto che per fare fotografia di notte quando c'è poca luce ti serve una macchina fotografica costosa, un corredo costoso, guarda questo video fino alla fine perché sto in qualche maniera per dimostrarti il contrario. Al contempo andremo a vedere che esistono degli accessori molto meno costosi che invece possono darci delle ottime fotografie con qualsiasi tipo di corredo fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni. Nel video di oggi andiamo a parlare di fotografia notturna, quindi sempre una bella sfida per chi si occupa di fotografie e di immagine perché fare fotografie e video se è per quello durante le ore diurne è più semplice. C'è tanta luce e quindi la nostra strumentazione non viene messa alla prova dall'ambiente circostante. Noi scattiamo le nostre fotografie con dei valori isobassi, con dei tempi di posa abbastanza brevi, non abbiamo grosse difficoltà, possiamo gestirci la luce, talvolta dobbiamo addirittura diminuirla con l'ausilio di filtri ND. Mentre di notte cambia tutto perché di notte essendoci poca luce spesso siamo costretti ad alzare i valori iso, spesso siamo costretti ad allungare i tempi di posa e questo può dare adito a fotografie mosse o micromosse. Nel corso di questo video andremo a vedere perché è possibile fare delle buone fotografie notturne con qualsiasi strumento fotografico, quindi anche con una fotocamera poco costosa, anche con un obiettivo entry level, riusciamo a ottenere grosso modo lo stesso risultato e andrò però a mostrarvi un accessorio che è questo. Questo come spero che riusciate a vedere è il filtro star da 4 o 8 punte di KNF Concept che mi è stato gentilmente omaggiato affinché io potessi parlarvene e infatti lo vedremo nel corso di questo video. Prima di cominciare io ricordo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto di iscriversi subito al canale perché la crescita del canale aiuta anche a portarvi collaborazioni sempre più interessanti, quindi a voi non costa niente ma poi beneficiate comunque del risultato e dell'aiuto che state dando al canale. Cominciamo a spiegare come mai non è necessario avere una strumentazione fotonica per fare delle buone fotografie notturne. Se noi abbiamo l'ultima ammiraglia con un obiettivo da 3.500 euro con una grandissima apertura ovviamente riusciamo a fare delle fotografie a mano libera di notte. Però questo succede comunque in contesti abbastanza rari e selezionati. Personalmente mi capita molto più spesso di fare fotografia notturna su tre piede perché quello che io voglio catturare di notte sono dettagli paesaggistici, la città, una luna, tutte cose che si farebbero comunque su tre piede. Il tre piede funge un po' dal livellatore della qualità a livello di strumentazione fotografica perché nel momento in cui io scatto una fotografia notturna e faccio riferimento ai dati delle fotografie che vi farò vedere quest'oggi, nel momento in cui io scatto fotografia notturna su tre piede io sto scattando con 15 secondi di posa, quindi un tempo lungo. Non esiste macchina fotografica che sia in grado di realizzare una fotografia ferma con 15 secondi di posa, quindi qualunque fotocamera io stessi usando, anche l'ammiraglia più bella e più costosa, comunque mi sarebbe servito un tre piede per fare una fotografia di questo tipo. Sto scattando a f9, f9 o f10, quindi ho chiuso molto il diaframma per questo motivo sto scattando con un tempo di posa così lungo. Questi due fattori messi insieme già ci fanno capire che anche se io stessi usando un'ammiraglia e anche se io stessi usando un'ottica ipercostosa, comunque avrei chiuso il diaframma. Ora le ottiche più belle e più costose spesso sono belle e costose perché dispongono di un'apertura molto grande, f1.2, f1.4, quindi ci permettono di scattare al buio perché fanno entrare tanta luce. Ma se io sto facendo fotografia notturna, paesaggistica o architettonica, in ogni caso lo chiudo il diaframma, quindi il vantaggio di avere un'ottica veloce non sussiste più, perché io sto comunque chiudendo il diaframma, quindi quel vantaggio lo sto lasciando lì, sto rinunciando al vantaggio naturale che mi avrebbe offerto la mia ottica costosa e quindi in questo caso non mi serve. Sto scattando ovviamente a ISO 100 e non è tanto per il rumore perché sto utilizzando macchine che comunque il rumore lo tengono bene. Nello specifico sto utilizzando Canon EOS R6. Le foto che vedremo oggi e i video che vedremo oggi sono quasi tutti fatti con questa macchina, quindi è una macchina che se la cava. Infatti i video che vi mostrerò oggi fatti con questa macchina sono girati a, non me lo ricordo più, ma ISO 1600 o 3200, quindi valori alti e comunque se l'è cavata bene. Video che vi farò vedere sono senza riduzione del rumore, sono proprio presi e sbattuti dentro così, quindi sono grezzi. Tutto questo per dirvi che facendo fotografia notturna non avremmo assolutamente avuto bisogno di una macchina come questa, ma sarebbe andata benissimo anche la R50 che abbiamo recensito in video precedenti che vi invito ad andarvi a recuperare, sarebbe andata benissimo anche la R100, sarebbe andata benissimo anche una semplicissima powershot, perché sono tutte macchine che questi dati di scatto mi permettono di tirarli fuori. Quindi anche con la strumentazione più basica del mondo noi possiamo fare una buona fotografia notturna, semplicemente con un paio di accorgimenti, quindi l'utilizzo di un treppiede, assolutamente obbligatorio. E adesso però andiamo a mettere un po' di pepe sulle nostre fotografie con questo, che è un qualcosa che secondo me cambia un po' faccia allo sport della fotografia notturna, perché ci permette di aggiungere qualcosa senza perdere niente. E per dimostrare questo vi invito a saltare con me dentro nel mio computer. Andiamo. Ok, come potete vedere questa è chiaramente una fotografia notturna. Stiamo scattando, come detto, 15 secondi di posa, una posa lunga. Stiamo scattando con un diaframma molto chiuso, superiore a F8. Infatti vedete che abbiamo, vedete che abbiamo le stelline sui lampioni, che a me piacciono tantissimo. Quando chiudi il diaframma nelle fotografie notturne hai quell'effetto stellina. A tutta apertura non ce l'hai, quindi anche per questo io chiudo il diaframma nelle foto notturne, perché voglio la stellina sui lampioni, sennò viene quell'alone che a me non piace particolarmente. Andiamo a vedere che cosa succede quando io introduco questo filtro nella mia immagine. Quello che succede è che otteniamo questo effetto. Vedete, vi faccio vedere, si è mossa un pochino mentre montavo l'obiettivo, l'ho mossa un pochino e non me ne sono accorto. Vedete la differenza. Con il filtro montato abbiamo questi punti, queste stelle puntiformi che si sviluppano dai punti luce dei lampioni e che creano un effetto secondo me molto gradevole, abbastanza particolare, ovviamente non è da usare sempre, però in certi casi secondo me può veramente cambiare faccia la nostra foto e rendere interessante anche una foto che normalmente non lo sarebbe. Le stelline qui come potete vedere sono biforcate, come se fossero un po' rarefatte. Questo dipende dal fatto che questi lampioni erano a led e avevano tanti bulbi separati che generano tante stelle separate che si vanno un po' a sovrapporre. Con lampioni con un singolo punto luce sarebbe venuto meglio, però a Milano ormai usano tutti questi lampioni con diversi bulbi led, quindi diventa anche difficile trovarne di singoli. Comunque l'effetto lo vedete qui molto bene e se io vado a ruotare il filtro, perché è un filtro che può ruotare a due facce, io posso decidere se sto scattando con una stella a quattro punte oppure a otto, perché di fatto è come se io avessi una sovrapposizione tra le stelle, se le faccio combaciare ne vedo una sola, se invece le giro in maniera tale da svilupparle tutte e posso deciderne anche l'inclinazione, cosa che è molto interessante. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Riuscite a vedere che c'è una griglia sopra il filtro. C'è una griglia che è come se fossero delle scanalature sul vetro che vanno a generarmi quei punti luce che abbiamo visto nelle fotografie. Questo filtro, come detto, ha una vite, quindi può ulteriormente ruotare e io posso andare a regolare la direzione delle punte, quindi posso ruotare l'intero filtro oppure posso ruotare la seconda vite in maniera tale da decidere se voglio quattro oppure otto punte. Ora io vi racconterò un piccolo aneddoto. Questa non è la mia prima esperienza con un filtro Star. Io ne provai uno tanti anni fa, ma veramente tanti. Questo filtro era costato poco, veramente poco, ed era di una qualità così infima che io per anni sono andato in giro a dire a tutti che i filtri Star erano una grandissima cavolata che rovinavano le nostre immagini che producevano risultati assolutamente scadenti. In effetti era così, quello che avevo preso io produceva risultati molto scadenti. Questo devo dire che mi ha sorpreso per la pulizia, perché produce effettivamente le stelle che promette di produrre, quindi funziona, ma non si limita a funzionare. Agisce sui punti luce dei lampioni, ma sul resto dell'immagine rimane molto pulito, quindi agisce dove dovrebbe agire, però non ti sporca tutta l'immagine, come invece succedeva con quello che avevo provato precedentemente, che sì, produceva delle stelle anche se tutte sfilacciate, non particolarmente belle, ma andava poi a sporcare tutta l'immagine, creava proprio degli aloni, era veramente pessimo come filtro. Questo invece la qualità mi ha sorpreso, perché produce quello che deve produrre, quindi ti fa i punti luce con la stellina, però non produce aberrazioni cromatiche degne di nota, che io sia riuscito a riscontrare, non produce, non introduce dominanti cromatiche, quindi è assolutamente neutro, fatto salvo per quelle scanalature che producono le stelle, e secondo me fa il suo lavoro in maniera egregia. Oltretutto devo dire che non ho riscontrato grosse differenze variando il diaframma, che è una cosa importante, perché mi è capitato di vedere in video di altri creator che al variare del diaframma loro riscontravano con filtri simili un cambiamento nei filamenti delle stelle, alcuni si spezzettavano, ecco io non ho riscontrato niente del genere, i filamenti rimangono uguali, sia che si stia scattando a f4, sia che si stia scattando a f13, e questa è un'ottima cosa. A questo punto amici siamo alla parte che per voi potrebbe essere un po' più golosa, perché se vi dovesse interessare qualcosa di quello di cui abbiamo parlato in questo video, per cui un treppiede o eventualmente uno di questi filtri, KNF Concept mi ha dato la possibilità di avere un codice sconto per voi, e io vi lascio un link nell'info box e se mi ricordo anche nel primo commento, dove potete andare sul sito di KNF Concept e potete avere uno sconto del 20% su questo filtro, che non è cosa da poco perché 20% è tanto, e dovrebbe essere ancora attivo anche il codice sconto con cui dovreste avere diritto a un 18% sul treppiede di KNF Concept che ho recensito tempo fa, vi invito ad andarvi a ripescare quel video perché attualmente è il treppiede più bello che ho a mia disposizione, quindi vi consiglio di dargli un occhio e se vi dovesse interessare potete averlo scontato. A questo punto però io vi chiedo come sempre fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, ne parleremo come sempre, io vi risponderò con degli shorts verticali, motivo per cui vi invito a iscrivervi. Se doveste avere ulteriori domande sulla fotografia notturna o sull'utilizzo di un treppiede, io vi rimando prima di tutto alla visione dei due video che compariranno in sovraimpressione non appena lancerò la sigla. Signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video.